Vai ragazzi, adesso questo video è sul Muifà, non vi spiegherò l'intera forma, però ci sono due o tre accorgimenti che secondo me possono migliorare sia la forma in sé che poi tutte le altre che vengono dopo, perché è proprio la base, sono proprio degli accorgimenti posturali sul movimento di queste forme. Allora, uno, chiudo, strizzo i miei glutei o apro le mie ginocchia e sono aperto sui 45 gradi. Adesso che ruoto, uno, bene, il piede dietro deve puntare, non devo fare questo, ok? Anche qui è un problema per l'articolazione. Tre, qua, tutte le volte, è sempre l'anca dietro che spinge, il gatto, bene bassi, scaricate il peso dietro, dentro. Ora quando vado giù, non fatemi questo con la spalla, non datemi la schiena, sono qua, è dritto, sono sempre davanti al mio avversario e poi su. Lo schema della forma è questo, ma potete usare questo, contro anca, ok? E chiudete in avanti. Molto importante da qua, questo avvitamento del corpo che dà energia al calcio. Uno, fatemi questo. Allungo. Voglio chiudere lo spazio. Devo spondare. Uno, due binari. Stesso errore di prima, appoggio il piede e poi mi allungo. Risulta una posizione chiusa, corta e alta e senza corpo. Alla fine scarico il peso del mio corpo. Divido. Alla fine scarico il peso del mio corpo. Montante. E lo resto montante è che lo farò di spesso così. Semilaterale. Qui c'è anche il montante, anche se sono semilaterale. Deve andare dritto. Questa mano chiude al centro. Riprendo qua. Gomito uguale. Qui non fate pam, pam, chiudete, 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 chiudete lo spazio, ok? Da qua. Uno, su bene, tranquilli. Do lo slancio e chiudo. Se non riuscite, va bene anche questo. Tam, apro, bersaglio. Uno, in linea, pum, chiudo. Quando cambio il Tam GQ, questa è l'idea. Più produttivo, questo. Quando fate gym ma, ok? Qui sono rilassato. Provate un po' a strizzare i glutei perché è da qua che parte il movimento. Senza bloccare la gamba. Glutei. Vedete che questa si stende ma è rilassata. Non devo stendere la gamba e premere sull'articolazione il mio ginocchio. Ok? Anche qua l'idea è questa di uscire. Ma se riesco a chiudere lo spazio è meglio. Uguale. Uno, due, tre.